Io sono Michele Taveggia e guido una Fiat 500 L del 1970 La 500 d'epoca è un simbolo iconico dell'Italia e mi è sempre piaciuta già dai 18 anni La cosa veramente bella di quest'auto oltre al colore che non è proprio perfetto è la targa La targa che è Roma Go e poi R33 sotto che è la stessa targa che aveva Lupin III sulla sua 500 gialla E dopo mesi ho scoperto che il libretto originale, l'inizio della sigla era 596 che sono i miei numeri di vita Perché sono nato il 5 nel 96 e quindi ho pensato proprio alla mia auto Ho pensato di vendere recentemente per una grande offerta che poi si è rivelata una fuffa E quindi dopo che ho pensato di voler andare a Caponordi in 500 ho deciso sicuramente di tenerla Perché ho questo obiettivo e mi fa impazzire l'idea di andare con qualcuno, andare da solo O smontare il sedile del passeggero, camperizzarla tra virgolette per la vacanza O proprio da viaggiatore e fare questa avventura O proprio da viaggiatore e fare questa avventura O proprio da viaggiatore e fare questa avventura